Ciao, sono Giulia Cocconi, responsabile Customer Care di Eden. Ci tengo molto a sapere come sta andando, come ti stai trovando, come è la nostra accoglienza, la nostra struttura, il nostro staff. Insomma, per qualsiasi domanda o dubbio, non esitare a contattarci. Info chiocciola edenmelesser.it A noi di Eden interessa molto il tuo giudizio e ci teniamo che tu possa proseguire il percorso che hai iniziato qui con noi. E ricorda, c'è chi va in palestra e c'è chi viene all'Eden.